Per D-Reporter ecco una nuova segnalazione di un nostro telespettatore. Il video, giunta alla nostra redazione, ci mostra e ci racconta una capannori notturna completamente al buio. Una cosa non nuova, ci dice il telespettatore, che punta il dito contro il sindaco Giorgio Del Ghingaro, reo nonostante le segnalazioni di ignorare il problema. Un problema che, specie in estate, costringe i cittadini che volessero fare una passeggiata serale per combattere l'afa o per portare fuori il cane o semplicemente per fare due passi ad armarsi di torce per non camminare nel buio più totale, vista anche la delinquenza sempre più dilagante sul territorio della piana. Questa è capanna di lotto agosto, completamente al buio. Qualche luce di lontananza, una macchina, luce dei portoni e nient'altro.